Sei grandi concerti in sei affascinanti teatri marchigiani fra il 25 settembre e l'11 ottobre. Sei performance ad alta qualità musicale, tutte ad ingresso gratuito. E' questo l'assist alla cultura regionale che arriva dalla BPR Banca attraverso Sipario Arte Teatro, la prima edizione di un festival musicale delle Marche organizzato dalla supervisione artistica dell'Orchestra Sinfonica Rossini e da ADEventi. La BPR Banca, dopo l'acquisizione del ramo d'azienda da Intesa San Paolo degli Ex Postelli Ubi, ha assunto un'importanza rilevante sul territorio. Quindi noi siamo presenti con 130 sportelli, prima ne avevamo soltanto 13 e di conseguenza siamo il secondo istituto sul territorio. Questo fa sì che il nostro istituto abbia un occhio di riguardo per tutte quelle manifestazioni che danno valore aggiunto al territorio indipendentemente dalla nostra attività caratteristica. Sipario è veramente una cosa importante, riteniamo di riuscire a coinvolgere i cittadini, la cittadinanza marchigiana e coinvolgerla in attività che è molto molto interessante. Innanzitutto è anche un modo di rinassere della cultura e diciamo che se non c'è cultura non c'è neanche economia e di conseguenza riteniamo che portarli a teatro in presenza sia un avvenimento molto importante. Innanzitutto è aperto alla cittadinanza in modo gratuito. Penso che ci faccia onore, la banca investe molto su questo fronte Biglietti gratuiti che si potranno prenotare a partire dal 10 settembre sul sito www.sipariofestival.it Il 25 settembre sarà Giovanni Allevi allo Sperimentale di Pesero ad alzare Sipario su sei grandi concerti organizzati dall'Orchestra Sinfonica Rossini. Gli artisti a partire dai solisti Giovanni Allevi, Danilo Rea, Petra Magoni. Poi progetti con orchestre The Legend of Morricone con l'ensemble Symphony Orchestra diretti da Giovanni Giacomo Loprieno. Poi Fabio Armigliato assieme all'Orchestra Sinfonica Rossini e il Cross Sound tante volte eseguito in questo territorio ma sempre richiestissimo dedicato ai Pin Floyd, Pin Floyd la storia e la leggenda. I teatri sono quelli magnifici della Regione Marche a partire dallo Sperimentale di Pesero passando per il Gentile di Fabriano, il Teatro della Fortuna di Fano, Teatro per Golesi di Iesi, Teatro delle Musee di Ancona e il Ventilio Basso di Ascoli. Cultura marchigiana che si mette in rete per un progetto presentato al Museo Nazionale Rossini di Pesero alla presenza di assessori alla cultura e direttori di teatro coinvolti nel festival. Mi preme ringraziare sia Saul Salucci che ha reso possibile tutto questo, che ha organizzato questo bellissimo cartellone e lo sponsor B per Banca che naturalmente lo ha reso possibile. Per noi è un onore fare parte di questo cartellone che coinvolge altri prestigiosi teatri oltre al nostro, Teatro Gentile da Fabriano, e ci coinvolge con un bellissimo concerto di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti che è un duo ormai consolidato da anni e che avremo il piacere di ospitare nel nostro teatro che tra l'altro mi dicono, io non sono un esperto del settore, ma mi dicono di essere uno di quelli con la migliore acustica regionale, insomma uno tra i migliori quantomeno. Le Marche unite da una rassegna musicale davvero importante, finanziata da B per, io ringrazio Saul Salucci dell'orchestra Rossini per avere coinvolto il comune di Ascoli per questo evento di chiusura con il pianista Danilo Rea apriremo il nostro massimo cittadino, quindi il Teatro Ventidio Basso. Questo ci rende molto felici e orgogliosi, vogliamo che il livello culturale della nostra città rimanga sempre elevato, anche in funzione della candidatura a Capitale Culturale del 2024, che vede tra l'altro presente anche la candidatura di Pesaro, quindi le Marche unite in un grande progetto culturale.